Innanzitutto non mi meraviglia che non abbiano mandato nessuno, forse in un contesto non protetto non volevano venire a fare un dibattito e non mi sorprende quello che diceva prima De Falco io ricordo quando siamo usciti noi, quando è iniziato la mia situazione che era il 2015-2016 io ho iniziato una mail con gentilissimo Anonimo Staff quindi l'abitudine di non firmarsi, di non sapere chi scrive, di non sapere chi decide però in questo caso analizzando quello che dice De Falco non è iniziata oggi, è sempre stata così io non penso che durante queste elezioni ci fosse la possibilità ancora di salvare il Movimento il Movimento non è più salvabile dal 2014 perché dopo le elezioni del 2013 la prima volta in Parlamento, io ho sempre detto, lì era la svolta si poteva crescere, migliorare, strutturarsi, abbandonare certi tipi di estremismi o peggiorare si è peggiorati e si continuerà a peggiorare